Le specie aliene sono animali e piante spostati dall'uomo al di fuori del loro areale naturale, in alcuni casi mettendo in pericolo la biodiversità. La globalizzazione, con l'aumento del turismo, dei commerci e dei trasporti, sta causando un forte aumento degli spostamenti di specie nel mondo. Le introduzioni di specie aliene possono avvenire intenzionalmente o accidentalmente, con diverse modalità. Ad esempio con il commercio di animali d'affezione o di piante ornamentali, o con la pesca. Le specie possono anche essere trasportate accidentalmente su aerei e navi, spesso come contaminanti delle merci. Molte specie aliene si sono già insediate tra noi e alcune, a volte anche molto graziose, possono essere una grave minaccia. Quelle specie aliene che hanno un impatto sono considerate invasive e sono uno dei fattori chiave della perdita di biodiversità globale. Non tutte le specie aliene riescono ad adattarsi all'ambiente dove vengono introdotte, e alcune non sopravvivono in natura. Ma altre possono prosperare, diffondersi e riprodursi, minacciando specie ed ecosistemi, come il persico del Nilo introdotto nel lago Vittoria, in Africa. Il risultato è stata la scomparsa di centinaia di pesci endemici, causando una catastrofe ecologica irreversibile. Purtroppo questo non è un gioco. L'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha creato un sistema per classificare le specie aliene in base al loro impatto sulla biodiversità. Il sistema si chiama EICAT, che sta per classificazione dell'impatto ambientale delle specie aliene. Il metodo EICAT classifica le specie in modo semplice, obiettivo e trasparente, in base all'entità del loro impatto, da massivo a trascurabile. Ad esempio, una specie ha impatti massivi quando porta all'estinzione di specie autoctone e produce cambiamenti irreversibili degli ecosistemi, come il pesce persico del Nilo, che ha portato all'estinzione di centinaia di pesci endemici. Capire l'entità dell'impatto delle specie aliene è fondamentale per pianificare e stabilire le priorità delle risposte a questa minaccia. Se vuoi saperne di più, visita www.iucn.org.